ma proprio a me mi era succedere e come faccio senza un braccio faccio pilota senza un braccio mangiando un bacio ui ecco lei guarda Achille a me mi mancano braccio Achille ci mancano tutti e due braccio e cammini a ballo ma allora è contento no io ci ha domandato perché amico scusate io sto a scendere pazzo a me mi mancano braccio e mi vuoi evitare a ballo eh appunto mancano due braccio e cammini a ballo ma che ballo caccia ma proprio non mi faccio trattare